Difficile non notare il grande ufficio a cielo aperto allestito per un giorno in piazza città a Vipiteno. Al lavoro un gruppo di dipendenti di Leitner per testare la flessibilità garantita dalle nuove tecnologie informatiche che consentono di lavorare da ogni dove, gestendo al meglio i tempi della propria vita in un rapporto ottimale tra impegni professionali e privati. L'azienda ha adottato un'innovativa piattaforma di Microsoft grazie alla quale è possibile collaborare, condividere informazioni e contribuire a progetti ovunque e in qualunque momento, accedendo facilmente su dispositivi mobili, alla posta elettronica, agli applicativi office e a soluzioni di comunicazione integrata. In senso pratico, per esempio, facciamo impianti ormai dalla Cina, Malaysia, Messico, in Egitto, non più solo in posti freddi del mondo, ma anche in posti più caldi. Abbiamo appena concluso questa ruota gigante più grande del mondo a Las Vegas. Ovviamente con questi progetti, perché noi facciamo cose, siamo un'azienda industriale, abbiamo continuamente dei problemi. Non dico che tutto vada bene, abbiamo continuamente dei problemi e questi problemi devono essere risolti, chiamiamoli sfide, devono essere risolti in modo veloce e efficiente. Recenti ricerche rivelano che il lavoro da remoto rappresenta un fenomeno ampiamente diffuso anche nel nostro paese. Da una parte ci si aspetta che i lavoratori siano sempre connessi. Nel 51% dei casi si fa conto che debbano risolvere problematiche anche fuori dall'orario di lavoro e dall'altra sono gli impiegati stessi ad aspettarsi di poter lavorare fuori sede e a trovarlo utile. Il 52% sarebbe disponibile a lavorare di più pur di beneficiare di maggiore flessibilità, il tutto a vantaggio della qualità della vita. Il concetto di smart working, come lo chiamiamo noi, sicuramente è anche in grado di supportare al meglio quello che è il work-life balance, cioè la possibilità di scegliere magari in quale momento della giornata lavorare e da quale luogo. Quindi sicuramente può andare incontro a quelle che sono le esigenze magari anche di una madre che si trova a lavorare e anche a dover gestire la propria famiglia. Ma nel caso specifico, per esempio, una delle cose che viene anche dimostrate qui quest'oggi è, supponiamo, uno scenario in cui un venditore di fronte al proprio prospetto, al proprio cliente, sta parlando di un progetto e magari può stabilire una videoconferenza con un collega ingegnere che si trova magari anche in un altro stato, in un ufficio remoto, coinvolgerlo in questa discussione con il cliente per risolvere magari un problema tecnico.